Concetta Malbono è la presidente della Proloco di Morrodoro, questa quinta edizione della Sagra delle Antiche Ricette che anche quest'anno è partita bene con la serata di ieri. Sì, grazie. Sì, è la nostra quinta edizione. Siamo effettivamente soddisfatti anche di essere arrivati alla quinta edizione perché effettivamente non immaginavamo che poi la cosa prendesse piede. perché i granetti era un po' una scommessa perché è fatta con la fava, non tutti gradiscono la fava. Però abbiamo visto che invece è una cosa che sta andando, che piace e quindi la stiamo riproponendo per la quinta volta. Abbiamo iniziato ieri sera, quindi dal 13 al 16 di giugno. Questa festa vuole essere un richiamo non solo alle tradizioni culinarie ma anche una festa che unisce cultura, tradizioni del territorio perché abbiamo visto che ci sono anche spettacoli teatrali, ci sono anche tutti artisti nell'arco delle tre sere del territorio, del posto. È una scelta voluta. Sì, in effetti hai ragione. È una scelta voluta come anche i prodotti che sono a chilometro zero, cominciando dall'olio che è del frantoio e quindi vino e olio sono del nostro territorio. Come gli spettacoli che abbiamo, diciamo, come gli artisti che abbiamo scelto in tutte le edizioni. Grazie.